Ciao a tutti gli amici ed amiche del Project Studio di Ferrara, mi chiamo Emanuele Morini, sono il socio fondatore del Project Studio insieme all'amico e collega Dattero Marco, ai quali poi si sono aggiunti Matteo Carrieri e Davide Patrinieri. Il Project Studio, studio fotografico, nato ormai da un paio d'anni, è in via Pianelle 102 vicino a Francolino, adiacente al Bulli e Stense. Lo studio, di circa 90 metri quadri, è a disposizione degli amici e colleghi che ne vogliono usufruire, ne vogliono far uso. Disponibile per qualsiasi evento e manifestazione, dotato di ogni comfort, circa 90 metri quadri open space, dotato di tutti i tipi di luci, flash, fresnel e luci continue. Sei tipi di fondali di carta, di tutti i colori, nonché possibilità di montare e allestire eventuali set fotografici. Siamo a disposizione per qualsiasi eventualità, contattateci al 380 54 24 881 oppure sul nostro profilo Facebook Project Studio Ferrara. Grazie a tutti, arrivederci e a presto.